Allora adesso prepariamoci per lo scenone, signori. Alessandro, occhio alle comparse. Dai, forza, cerchiamo di girare questa scena. Motore e... azione! Africa, Africa, sento i profumi. Io sento la verità di questi luoghi. La verità di questi volti. La verità di questo sole che mi illumina l'anima. Stop! Non mi convince, ma c'è qualcosa che non va. Oh, a Duccio, senti, ma guarda che questa luce è poco africana, secondo me. Non è un problema, non è complicata. Vai, vai da Stannis, vai da Stannis. Dai, Duccio, per piacere. Dimmi, Stannis. Io non sento l'Africa. Però poi, sai, il niente, è il niente. Vai, dai, facciamone un'altra, dai. Motore! E... azione! Io lo sentivo che era innocente. Invece ti sbagli. Sono colpevole. Sono colpevole... di amarti. No, stop! Scusate, ragazzi, qui non ci siamo. Questa scena non funziona. Non so perché... Ma infatti anche secondo me c'è qualcosa che non funziona, René. Che c'è bisogno che ve lo dico? Sono ragazza in tronco! No, dai, per fav... Non dire così, su! Non ho capito. Mi pare ne sta a baciare una cabina telefonica! Che veri detti! Non sono quello che vi aspettavate, eh? Non ditemi che vi ho deluso. No. Sei solo più facile da... Questo stronzo guarda in macchina. Eh, stop! Non era male! Veramente, eh? E... azione! Oh, hey! Buongiorno! Sono Tato Zincla, grande amico di Toto Ciocio. Ho saputo che state operando! Stop! Ma come cazzo parli? Che è sta buffonata? Non è la linea comica! E non deve far ridere! Perché non c'è un cazzo da ridere! È bello. Ma da chi avete copiato? Ci manca di rispetto, René. Forse non te lo meriti. Azione! Dottor Giorgio, è molto importante. Io... Io devo... No, scusate, ragazzi. Non far ridere così, però. Perché? Non ti vedranno per un sacco di tempo. Abbi pazienza. Devi lasciare un buon ricordo. Ho sbaglio, René? Sì, no, no. Eh, può essere più comica, Nando. Le faccette! Servono le faccette! La gente ti ama se fai ridere, Nando. Facciamone un'altra, ragazzi! Azione! Dottor Giorgio! È molto importante! No, no, stop! Deve essere molto, ma molto più divertente. Cioè, dopo soffriamo per la tua morte, va bene. Ma adesso ancora ridiamo con te, va bene? Faccette, fai le faccette, dai! Facciamone un'altra, forza! Motore! Azione! Dottor Giorgio! È molto importante! Ciao a tutti, sono Stefano Baglio, e dopo Vandavision, diretto da René Ferretti, come poteva mancare l'occhio nello stile di Boris? Serie che ha al netto di tutti gli enormi difetti, devo dire che finora fra quelle del Marvel Cinematic Universe è stata quella che ho preferito. Certo, probabilmente il 90% è dettato dal fatto che abbiano introdotto Kang e il multiverso, ma questi sono dettagli. Fatemi sapere anche voi, qui sotto nei commenti, quale avete preferito. Ci tengo a ringraziare di cuore il regista di Loki, che come potete notare, essendo io seduto, che parlo facendo uno spiegone davanti alla telecamera, è anche il regista di questa parte finale del video. Vi ricordo che se volete acquistare queste e tante altre, splendide magliette, gadget, tazze, penne, adesivi, scarpe, calze, tutto rigorosamente a tema nerd, potete andare sul sito pampling.com e inserendo il codice sbaglio in fase di acquisto, avete diritto a un paio di calze gratuite a vostra scelta. E in descrizione trovate anche i link ai miei social e un sacco di link Amazon, nel caso volete acquistare la mia attrezzatura o tutto ciò che ho qui intorno. Che dire? E coffee break, signori! Ma come? Stai zitta! Stai zitta!